Una cosa fondamentale per portare a buon fine questa campagna, siamo sul photo finish, le forze sono esigue, è importantissimo per tutti i compagni delle altre associazioni cittadine che chiamino i comuni, magari anche solo i capologhi di provincia e si informino se è necessario portare altri moduli in questi comuni, perché grazie alla minima copertura mediatica che c'è stata in questi ultimi giorni, questa copertura seppur minima è stata sufficiente per muovere moltissime persone e farle andare a firmare nei comuni, c'è il rischio che in alcuni comuni siano finiti i moduli, per cui fate un giro di telefonate nei comuni principali delle vostre province, nei capologhi di provincia e accettatevi che ci siano i moduli, perché c'è il rischio che decine di migliaia di persone non firmino il referendum e quindi per quelle manciate di migliaia di firme non si possa raggiungere l'obiettivo delle 500.000, mi raccomando.